Quattro risultati utili consecutivi con otto punti ottenuti, una strada tracciata sulla quale proseguire. Idei chiare per il Palermo, che riceverà oggi il Renzo Barbieri e il Carpi nella 32esima giornata di campionato. Tedino dovrà fare a meno di Balog, Ciocev, Venestorovski, Posavez e Struna e Traikovski convocati dalle rispettive nazionali. Una settimana di lavoro comunque positiva per l'allenatore rosanero col Palermo che si appresta ad affrontare una squadra in forma come il Carpi. Non abbiamo avuto una settimana organizzativa, tattica, di difficoltà. Naturalmente non avendo altri giocatori quello che scema un pochino è l'intensità lavorativa, la velocità con cui si è abituato a lavorare con la distribuzione della palla è quello che un pochino è diventato più difficile. È diventato molto più difficile anche perché le condizioni climatiche di questa settimana sono state devastanti perché c'è stata pioggia, campo pesantissimo, abbiamo lavorato anche a singhiozzo anche da questo punto di vista perché avendo pochi giocatori e lavorando forte su un campo pesante si fa forza, si fa forza esplosiva ma forza resistente soprattutto. Le gambe diventano così grandi, così grosse, scusate, e quindi si va al rischio di non essere brillanti. Anche questo abbiamo dovuto tenere presente in questo contesto quindi non è stata una settimana difficile, è stata una settimana dove non abbiamo trovato magari l'intensità lavorativa che abbiamo sempre trovato quando siamo diciamo più o meno al completo. Prezzi speciali per il match del Renzo Barbera decisi dal patron Zamparini per questo finale di campionato. Dai 2 euro per le curve ai 5 euro per la tribuna Monte Pellegrino. Sarà possibile acquistare oggi i tagliani dalle 10 alle 11 anche presso la bietteria sud dello stadio, oltre che presso tutti i punti vendita del circuito Viva Ticket. Calcio d'inizio alle ore 15. Appuntamento sul nostro profilo Twitter per il live match. Arbitrerà l'incontro Davide Gersini di Genova.